Desidero mostrarvi il problema più ovvio. È tutta fantasia. Ma la storia ufficiale racconta che un pannello del radiatore S13 sull'ISS a causa di una micrometeorite o a causa di detriti spaziali si sia staccato. Ma questo pseudodramma fasullo non è importante. Quello che è divertente è che il pannello sta sventolando al vento. Non c'è nessuna possibilità che il vento o che solo scarico di un veicolo spaziale o qualsiasi altra cosa possa far sventolare quel pannello avanti e indietro nel vento in quel modo se l'ISS è nel vuoto dello spazio. Come tanti altri molteplici falli questo semplice errore dovrebbe porre un fine definitivo al dibattito sullo spazio per qualsiasi persona che ha ancora il cervello.